Ciao a tutti, metodo infallibile per raggiungere il successo. In questo video voglio spiegarti qual è un metodo infallibile per raggiungere il successo. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai scegliere tra ben quattro livelli di abbonamento. Abbonamento base, abbonamento live per partecipare alle live. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo e abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo a metodo infallibile per raggiungere il successo. Allora, è importante scoprire cosa fanno le persone di successo, cosa fanno le persone che hanno successo nella loro vita. Tutte le persone di successo hanno due cose, due qualità, due caratteristiche. sanno dove si stanno dirigendo, diciamo così, sapendo da dove si trovano, sanno dove vogliono andare. Quindi per meglio dire hanno un obiettivo ben definito e sanno a che punto si trovano in modo tale che possono orientare i loro comportamenti verso il raggiungimento di quell'obiettivo. Ogni persona poi ha di successo alla perseveranza, continua ad allenarsi a fare le stesse cose. Guarda ad esempio i grandi sportivi, i giocatori di successo, qualunque, i sportivi, ma i musicisti, i lottatori, i prestigiatori, insomma, tutte le persone che sanno fare qualcosa si allenano. Passano giornate a esercitarsi. Passano molto tempo a prepararsi. La preparazione è una cosa fondamentale e poi quando devono fare una performance misurano i risultati che hanno raggiunto. Vedono dove sono stati meno performanti e cercano di mettere a punto una strategia. non si lasciano abbattere e non diventano dipendenti dal successo. Questa è un'altra cosa fondamentale. Non provano sensazioni negative quando sbagliano qualcosa. Semplicemente prendono l'informazione che quello che hanno fatto non ha dato i risultati voluti e quindi cercano di fare meglio. Modificano. Anche se riescono, diciamo, se fanno molti sbagli, ogni volta affinano, diciamo, le capacità fin tanto che non riescono a fare la cosa giusta che li porta al raggiungimento del risultato. si alimentano costantemente poi del successo ricevuto per autocarricarsi e per premiarsi. Quindi questo è fondamentale. Se tu agisci in questo modo avrai sicuramente successo perché migliorerai comunque di volta in volta. e questo è l'unico vero modo per avere successo. Quindi sapere dove vuoi andare, sapere dove ti trovi, fare delle azioni che pensi siano orientate in una direzione, osservare quelli che sono i risultati e continuare a perseverare, cambiando di volta in volta fin tanto che non riuscirai a trovare l'approccio giusto. Le persone che non hanno successo invece cosa fanno? Non sanno esattamente dove vogliono andare, sanno poco dove si trovano, fanno dei tentativi che se vanno male, diciamo così, li prendono come un fallimento personale e mollano, smettono, cambiano obiettivo, si rivolgano a qualcos'altro e quindi diciamo sono caotici. Il vero successo si raggiunge attraverso il metodo. Essere metodici, spingere le cose sempre nel suo modo è fondamentale per poter veramente avere successo, un successo che possa essere come dire costante. È importante imparare in questo processo a costruire le proprie abilità. Se diventi abile diciamo a scoprire quali sono le tue capacità, perfezionarle e se non le hai prendi una persona a modello, una persona che abbia queste capacità, osserva quello che fa e modellati su questa persona. Quindi cerca di capire come si comporta, cosa fa, cosa dice e tieni presente che qualunque cosa una persona faccia se tu conosci il processo che l'ha portata a raggiungere diciamo queste queste situazioni potrai ottenere gli stessi risultati o perlomeno risultati simili, magari personalizzati con te, ma potrai apprendere nuove capacità che ti porteranno a raggiungere il successo. Questa è la parte creativa della vera successo. Poi per il resto ci va perseveranza impegno e saper valutare semplicemente i risultati ottenuti identificando magari i punti deboli per poterli rafforzare. Bene, per questo video è tutto. se ti è piaciuto metti un like condividerlo con i tuoi amici attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco seguimi su TikTok ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai scegliere tra ben quattro livelli di abbonamento abbonamento live per partecipare alle live abbonamento base per le lezioni mirate abbonamento top per le lezioni mirate e videoregistrazioni seminari del video abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica ciao a tutti